Ma tamolmente da mesi, insomma, il bastano ti cercava, sei in maglia giallorossa, cosa ti aspetti da questa avventura? Mi aspetto molto, voglio dare molto, mi aspetto molto, ci siamo inseguiti un po' però sono contento di essere qui, di far parte di un gruppo importante che negli ultimi anni ha fatto bene, quindi tanta voglia di dargli una mano. Il mister lo conosci bene, sicuramente, insomma, sottili saprà come utilizzarti al meglio. Penso di sì, ho avuto già modo di lavorare con lui a Varese, quindi ci conosciamo già. Primo avversario, insomma, un avversario che per te ha un significato importante, l'Albino Leffe? Bah sì, a Bergamo ho tanti bei ricordi, però adesso devo pensare a Bassano e voglio fare il meglio per questa maglia. Come puoi immaginare dopo la partenza di Iocolano, insomma, Bassano si aspettano tanto anche dai nuovi arrivi, quindi anche da te? Bah sì, so che per Bassano Iocolano ha rappresentato qualcosa di veramente importante, ho avuto modo di affrontarlo da avversario e di conoscerlo come giocatore. Niente, però adesso dobbiamo pensare al futuro e sono qui per dare una mano e spero di riuscirci al meglio.